Di Edgar Lee Masters, da antologia di Spoon River, la signora Perkipile. Scappò e restò via per un anno. Al ritorno mi raccontò quella storia idiota che l'avevano preso i pirati del lago Michigan e tenuto in catene, così non aveva potuto scrivermi. Finsi di credergli, ma sapevo benissimo cosa faceva e che si vedeva con la modista. La signora Williams di tanto in tanto, quando andava in città, per acquisti, lei diceva, ma una promessa è una promessa e il matrimonio è il matrimonio e per rispetto a me stessa rifiutai di farmi attirare in un divorzio per gli intrighi di un marito che era solo stufo del giuramento e dei doveri coniugali. Grazie a tutti.